Il segreto La ragazza, infatti, deciderà di anticipare la data delle nozze con prudenza dopo delle dichiarazioni spiazzanti di solo Ortega Una decisione che susciterà i dubbi di Emilia e Consuelo, mentre donna Francesca apparirà ben felici dalla notizia Il segreto, Sol Baccia Luara, Fuglietta sconvolta. Laura Moreno, la nuova infermiera della villa, comincerà a provare un crescente interesse per solo L'atteggiamento di Laura, non passerà inosservato a Prudencio che inviterà il fratello a corteggiarla Il primo genito degli Ortega, infatti, porterà l'infermiera a fare una ricca colazione, nel tentativo di dimenticare Fuglietta Qui i due stipuleranno un patto, Laura, infatti, accetterà di essere la sua fidanzata, se il piano non venisse scoperto da Prudencio Fuglietta, nel frattempo, rimarrà sconvolta dopo aver visto Sol, Trubben Bergman, in atteggiamenti compromettenti con Laura Un tradimento che avverrà sotto gli occhi di tutti gli abitanti di Quenteville. Lauriarte, a questo punto, confesserà a Consuelo di aver perso per sempre l'Ortega, che nel frattempo si feliciterà con Laura della riuscita del piano Infine l'anziana donna inviterà Fuglietta a lasciare il fidanzato per tornare con Sol Il segreto trame settembre, Fuglietta anticipa il giorno delle nozze. Stando alle anticipazioni delle puntate di settembre del segreto, Fuglietta a Riarte, Claudia Galan, chiederà a Sol delle spiegazioni sul suo strano comportamento L'Ortega, a questo punto, minimizzerà la loro passata relazione, sottolineando che era stata soltanto attrazione svanita con l'arrivo dell'affascinante Laura Lauriarte, a questo punto, cadrà in depressione tanto da dare una svolta alla frequentazione con Prudencio, fosse Milano Il piccolo dell'Ortega, infatti, sarà entusiasta della decisione della fidanzata di convolare a nozze entro due settimane Consuelo, nel frattempo, cercherà di far ragionare la nipote sebbene in vano. Inoltre Emilia nutrirà dei seri dubbi sulle vere intenzioni dell'amica di sposare Prudencio, mentre donna Francesca, Maria Buzas, si mostrerà ben lieta, tanto da proporsi come madrina Infine Sol sarà messo davanti ad un video, continuare la sua finta relazione con Laura o lottare per riprendersi con l'età